Se uso la metraglietta il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo Poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ma prima di iniziare ragazzi volevo dirvi un paio di cose In primis vi ricordo ragazzi che stasera saremo in live sul sito Viola per guardare assieme l'evento di Fortnite Quindi andate in descrizione nella sezione live streaming E assolutamente iniziate a seguirvi per non perdervi l'evento con me Oltre a questo ragazzi mi faceva anche molto piacere dirvi che di recente Realme mi ha mandato questo telefono Il Realme 7 5G Il telefono è questo ragazzuoli dal nome potrete già immaginare che è provvisto di una tecnologia 5G Che non molti telefoni hanno in questo periodo Dietro ragazzuoli una fotocamera da ben 48 megapixel Poi anche 6GB di RAM 120Hz di display ragazzi quindi una fluidità che difficilmente trovate su altri telefoni E se anche voi soprattutto volete vincerlo perché questa è la cosa più importante Se andate in descrizione potete trovare un link con un'iniziativa di Realme Attraverso la quale potrete vincere sia questo telefono E anche ragazzuoli una PS5 In questo periodo in cui non se ne trovano beh sarebbe un buon colpo di fortuna Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Altrimenti vi perderete i prossimi video di questo tipo E vi lascio a queste game guys Ok boys quindi la sfida ve l'avete letta E iniziamo malissimo infatti Un set iniziale con il quale gestire questa sfida Insomma ce l'abbiamo Devo stare attento durante il game A ricordarmi di non utilizzare assolutamente Le mitragliette Ok in realtà uno scudo grande ce l'abbiamo Sarà forse uno spreco perché probabilmente appena me lo farò troverò delle bozze piccole Ma sappiamo che ormai la mia sfiga è sempre quella Quindi non è che ci faccio sto granché Perché se non me lo facessi non le troverei le bozze piccole Quindi avete capito che dico Tizio là che sta scappando Aspettate E' un E' due E' tre E' insomma E' insomma E' su Dai non c'è bisogno di scappare così tanto Mi faccio male no Fortunatamente ok Ah mi ha colpito però Potevo evitare Sono fatto fare un bel po' di danno E' anche un po' inutile No non posso prendere la mitraglietta Mi ha quasi spontaneo ormai raga Beh direi Ha senso però Probabilmente la fallirò Vi lascio immaginare cosa accadrà in un momento di panico Verso la fine in cui avrò tutte e due le armi scariche In realtà la cosa più intelligente sarebbe andarsi a prendere L'arma di Tony Stark Perché quella se non miro Funge da mitraglietta capito Cioè utilizza sempre proiettili assalto Quindi va bene per la sfida Però ha un ratio di fuoco di una mitraglietta Bella fra Scusami Che mi dai? Eh Altre jug Buono No dove l'ho lanciata Dove l'ho lanciata Ma cosa ho fatto? Io non capisco dove è la tua testa Guarda qua Quanto mi fa arrabbiare questa cosa Ok perfetto Quella banana ragazzi E' una delle skin più forti Perché non si capisce dove è la testa Eh bui Una mitraglietta Vabbè ti pareva che non trovavo la mitraglietta viola Vabbè GG La lasciamo ragazzi Non fa niente Non so come voglio prendere sto game Se in maniera un po' più aggressiva O andare un po' più sul cell E puntare alla win Però quasi quasi ragazzi Tranquillamente io mi butterei Ehi di testa Invece questo mi ha colpito in testa Eh Eh si lo vedo C'ha la UG tra l'altro credo No ma è un bot È un bot È un bot È un bot Me ne sono accorto subito A parte dal fatto che non mi abbia distrutto Sparandomi Ma anche dal fatto che Mi ha sparato Praticamente appena sceso Con una precisione Che solo un bot può avere Quindi GG Eh è un altro bot Un altro bot Guardate come scappa Mi cadrà shotgunnato Ma fermo Non c'è bisogno Non c'è bisogno Lasciatevi stare Dai che glielo sono mie Fe 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 Gra Eh Bravia Ecco qua A posto Forse quello manco è un player Quello è un altro bot forse È scomparso È scompasvanito È inquietato Oh macchina Andiamo in safe Andiamo in safe Andiamo in safe Ok Ottimo Scappa Non costruisce Quanti materiali ha Scusatemi Prendi la zip Vai in acqua No c'è un altro inizio Quello se lo elimina No se lo elimina Cioè lo elimina per forza Lo elimina per forza Mamma ma sicuro Ma sicuro No guarda ma si ruba la mia kill Si è rubato la mia kill Pazzi furiosi Erano mie ragazzi No Oh 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 Boogie Mi ha visto per forza Ok È a posto Dammi lo spas Che te l'avevo visto subito La OG Uh È uscito Ah Scaretto Vabbè Eh vabbè bro Ti è andata male Tra l'altro c'è pure i poteri Di Oh E E che abbiamo acchiappato Qui Ok frate Vabbè Non so chi De due Ha giocato peggio Però mi do il beneficio Del dubbio Ecco Non voglio utilizzare Per ora le bouncer Me le tengo per i fight Erano bot Sono bot Sono bot Sono bot Ok uno Non so fare tranquillamente Anche l'altro Sono bot Dai Ottimo Vabbè Queste praticamente Non me le meritavo Parliamoci chiaro Tu mica stai Qualcine se spuglio No eh Ah si è preso la mia kill Ok Perfetto Potevo farmene due Però non fa niente Peccato Perse le 15 bombe Ho lasciato dei bouncer Forse le ho finite Non ci ho manco fatto Lag Lag Sorry Sorry lag Ma serio 44 44 44 44 Serio bro 44 Serio Eh da se mi lasci stare Io sono un bravo ragazzo Cioè più o meno Però Sono simpatico Almeno sono simpatico Eh ma la zona è ancora troppo grande Cioè si potrebbe Nascondere ancora in Troppe zone Potrebbe stare là dentro No Non c'è bisogno Ma che Lui è un coraggioso Vabbè forse Devo levarmi sto venom Perché l'altro non lo so Utilizzare Abbiamo capito Oh Bello sto jetpack Vai vai Dai continua continua Risali risali Bella per te frate Dai la prossima volta GG GG Partita vinta senza mitraglietta Ragazzi oggi mi sento generoso Ci facciamo pure il secondo game Stavolta andiamo direttamente Alla Stark Industries Perché dobbiamo fare Le 15 kill ragazzoli Assolutamente Startiamo subito Con un bello assaltuccio Bello carino Bello fresco Come piace a noi Anche delle splash Potrei già fullarmi subito A dirla tutta Mamma mia Come è inquietante Galactus su quel lato Uno Ok Stavo già raccogliendo Una mitraglietta E questo Ciao Ma lo sapevo Lo sapevo Che sta cosa non andava bene Ciao Grazie 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 Ciao Mamma mia Io sicuramente la progetto Già nell'intro Ragà però ve lo ripeto Anche ora Stasera saremo in live Per guardare l'evento Assieme Sto in contizio dietro Aspettate calmi Per guardare l'evento Assieme ragazzi di Fortnite Quindi vi aspetto Startiamo verso le 8 E poi finiamo Guardando L'evento appunto Quindi andate in descrizione Nella sezione live Streaming E iniziate a seguirmi Tengo nemici sopra Nemici sotto Non si capisce più niente Aiuto Mamma mia Ciao Me l'ho dimenticato De quel tizio Manacciato di Stark Pazzito Oh 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 Ma veramente mi stai inseguendo Sei un pazzo frioso Sei un pazzo Cioè ragazzi Ma fermatelo È un toro È un toro È un toro Mamma mia raga Impazzito Impazzito Non lo ferma più nessuno Sta continuando a spararmi Mi sta arrivando pure un tizio addosso Godo Dai Io gli devo fare utilizzare il potere Eh mamma mia Uuuuh Che ho salvato qua raga C'ho tipo 3 di vita Sono l'attrazione principale del game Eh Basta Guardate come mi insegue Eh Eh dai 90 dai Guarda frate Lascia stare che non c'ho materiali Dai Per piacere Ah Non piacere Guarda non ce li ho i materiali È inutile C'è il combat Il tizio che c'è il combat Quanto può mai essere forte Dai per piacere Pure E basta Io non mi sopporto più Ma uscite come le piante Cioè spuntate veramente come C'è un cecchino alle spalle Non so dov'è Eh vabbè Sì vabbè Sì 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 Le piglia tutte lui Le piglia tutte lui È certo È certo Godo Pazzo furioso Pazzo furioso Fermi Basta Ok raga Mamma mia Dai 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 No Perché volevo curarmi Perché volevo curarmi Oh comunque questa cosa Senza la vetrietta la sto Assaggiando Mi piace No no Fermo 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 Eh devo per forza eliminarlo così No Lo sapevo Vabbè Peccato Potevo farmi pure l'altra kill Ok Allora sta Della gente Lasi Vabbè ma nel frattempo Che ci arrivo Oh Come ha fatto Come ha fatto A non prendermi Ma sei serio Cioè ma davvero Tra l'altro Eh no raga Mi servono i suoi materiali Devo dotarlo Ok No Cavolo Mannaggia Mannaggia raga Oh stavo Sincero stavo puntando Alla Alla 20 Bombs Ma è andata Peccato Vabbè sarebbe stato troppo complicato Mi sarei dovuto fare Entrambi queste tizze Che ping Per piacere Non fare scherzi Ora scendi Grazie Ma questo era pure un bot Mi ha rubato la kill Vabbè Allora mi accontenterò Di 15 bombe Ragazzi Dai non fa niente Ah stanno là Stanno là Stanno là Ok Dai io che gli vado addosso Dai io che gli vado addosso Godo Insistiamo raga Insistiamo Colpito 47 Dai non devo fermarmi Ah sta l'albero Lo sa che con l'albero Non posso farci niente Altro 50 Bello Mamma mia Sono stato molto cattivo Ma ci sta E' là E' là E' là Ok Ah è facile Easy Easy Penso che non l'ho visto Penso che non l'ho visto Tu ciao Perché Eh Insomma Vediamo un attimo Se funziona il tuo potere Vediamo se funziona Mannaggia Eh no Gliela distrutta solo Ha senso Vemi così veramente Sono folli Ma roba A cardiopalma Goto Se mi colpiva Era folle Mamma mia Che partite che vi ho portato GG Ok ragazzi Quindi spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo ancora Di iscrivervi al canale E attivare la campanellina Se non l'avete ancora fatto Di iniziare a seguirmi Sul sito viola Perché stasera Guarderemo l'evento di Fortnite Assieme E non vedo l'ora Di combattere contro Galactus E noi ragazzi Ci becchiamo alla prossima Ciao Ciao Grazie.